Buongiorno e benvenuti. Bentornati a Ho ragione avvocato e naturalmente quest'oggi come vedete siamo tornati a essere noi, gli unici ospiti di questa trasmissione, che appunto oramai conduciamo da oltre 11 anni e per la quale riceviamo anche da persone che non solo ci incontrano ma anche telefonano alla redazione di Videonovara. Sembra che gli apprezzamenti continuino. E ringraziamo tantissimo i nostri ascoltatori. Perché ho avuto queste confidenze dal direttore e appunto vi ringraziamo per averci concesso di continuare in questo lungo ma piacevole cammino. Oggi gli argomenti che trattiamo sono la legittima difesa da parte dell'avvocato Bastetti e un discorso un po' particolare sulla depenalizzazione dei reati, così come sono avvenuti con alcuni provvedimenti legislativi dello scorso anno. Sì, io volevo parlare perché insomma oggigiorno basta accendere i telegiornali o qualche trasmissione di commento di fatti che avvengono, fatti di violenza. Si parla spesso di legittima difesa, per cui vabbè qui non vogliamo dare alcuna lezione particolare ma è solo un ripasso che facciamo sulla legittima difesa insieme ai nostri ascoltatori. Allora intanto per fare alcuni chiarimenti, l'articolo del codice penale che si occupa della legittima difesa è l'articolo 52, il quale dice, ho un po' di difficoltà leggera, io mi sono appuntato varie cose, un po' di difficoltà perché come possono vedere i nostri ascoltatori non ho gli occhiali, i suoi abbiamo già provato qualche anno fa. Comunque l'articolo 52 del codice penale, gli occhiali li ho dimenticati in studio, dice che non è punibile che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o d'altrui contro il pericolo attuale, ecco queste sono le parole da ricordare, di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, questo è il primo comma, comma che esiste. Ma è sempre stato, da sempre sostanzialmente. Però è stato aggiunto un secondo comma, questo comma è stato aggiunto nel 2006 con la legge 13 febbraio 2006 numero 59, perché? Perché c'erano stati vari episodi di violenza, di come dire furti in casa, con conseguenze magari anche più rilevanti, e a questo punto il legislatore ha previsto una modifica di questo codice, ha inserito questo secondo comma, il quale dice, nei casi previsti dell'articolo 614, primo e secondo comma, che ricordiamo che è la violazione di domicilio, come abbiamo detto, sussiste il rapporto di proporzione, qui entro un po' a specificare questa proporzione, di cui al primo comma del presente articolo, quello che abbiamo appena letto, se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi i vindicati, usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere A. la propria o l'altrui in columità, e lì è chiaro, B. i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza o vi è pericolo d'aggressione, e poi è su questi giudizi che poi si sviluppa tutta una certa giurisprudenza che può o meno piacere insomma alla gente che è coinvolta. Perché non è facile in pochi secondi prendere delle decisioni sulla base dell'articolo del codice penale, infatti se uno si trova in casa, non ha il tempo di andare a prendere il codice penale e studiarsi la giurisprudenza, si trova in casa magari notte e tempo delle persone, insomma, uno come fa a capire le loro intenzioni, e capire se sono armati. Tutti i giudizi esposti. Mi sembra però di poter escludere ovviamente la legittima difesa nel caso in cui il ladro magari vede la presenza di qualcuno e comincia a scappare e va fuori. Allora in quel caso, insomma, mentre scappa, abbandona il luogo del delitto. Abbandona il luogo, sta scappando, magari sparare in quel caso è fuori ovviamente da ogni... Comunque per aiutarci in questo percorso, per capire, insomma, ho trovato questa sentenza della Cassazione, è un labirinto, ogni parola è soppesata dai giudici e va ovviamente interpretata e giudicata rispetto al fatto concreto, no? Per cui ho trovato però questa sentenza della Corte di Cassazione del 27 novembre 2015. Intanto i giudici spiegano, è un po' un ripercorrere quello che è la giurisprudenza precedente da parte della Cassazione, che il pericolo deve essere attuale. Allora, quando è attuale? Intanto non è attuale nel caso di difesa preventiva, cioè uno reagisce prima ancora che è stato commesso il fatto o qualcuno è entrato in casa. E anche quella successiva non è attuale, perché a quel punto si tratta di una vendetta privata. Se dopo il fatto io reagisco, ma magari, lo so, il giorno dopo o una cosa del certo. Ecco, per cui l'attualità del pericolo prevede appunto la giurisprudenza, questa interpretazione, il pericolo deve essere presente in atto, in corso, in combente, con esclusione, cioè del pericolo già esauriti se di quello ancora da verificarsi, no? Che però anche lì ha voglia entrare a giudicare il caso concreto. Poi ci deve essere un altro elemento che specifica la Cassazione, la proporzione tra la difesa e l'offesa. Sì, questo è un principio che... Il male che viene minacciato, cioè a questo punto è sottoposto al giudice. Al giudizio del giudice. Eh sì, perché deve valutare che cosa... Però è facile magari, o più o meno facile, farlo ex post, cioè dopo l'avvenimento del fatto, quando si ha tutta la documentazione, se hanno le cose chiare, magari, come dire, seduti nel proprio studio a valutare queste cose, magari è difficile quando si è coinvolti in prima persona. E poi se ci magari è anche una ripresa, una ripresa videotelevisiva, che in qualche modo possa orientare un giudizio così difficile da parte del magistrato. Infatti. E poi c'è la possibilità, è un altro concetto che esprime questa sentenza di Cassazione, della legittima difesa putativa. Qui il tempo sta già correndo abbastanza velocemente. Possiamo fermarci a questo concetto, magari. Possiamo fermarci a questo concetto. Magari riprendiamo la prossima puntata, lascio spazio a lei. Riprendiamo questo e poi vediamo se c'è un altro argomento per la prossima puntata. Questo concetto lo lasciamo in sospeso. Legittima difesa putativa, ne parliamo... Bisogna dire che uno crede, a questo punto bisogna vedere il giudice come può valutare questo tipo di... Quindi ricordiamoci, allora, gli elementi... Purtroppo quando si parla poi di queste cose il tempo scorre veloce. E noi siamo abituati, e lo facciamo spesso in studio o in tribunale, a dover addentrarci in questi meandri. Perché poi comunque la sentenza, anche la Cassazione stessa, si trova a dover interpretare quelli che sono i momenti della vita, ai momenti di una vita, anche messa in ricco. Poi ho fatto una breve ricerca, ma veloce, su quello che avviene poi negli Stati Uniti. La prossima puntata dedichiamo un passaggio a questo discorso. Sicuramente riprendiamo il discorso, parliamo della difesa putativa e di quello appunto... Che avviene o avverrebbe insomma negli Stati Uniti. ...altrove e non in Italia. Da parte mia invece, io torno, perché l'abbiamo parlato appena usciti un annetto fa, su due decreti legislativi, il famoso per noi, numero 7 del 15 gennaio 2016 e il numero 8, che erano sostanzialmente, facevano parte del pacchetto di depenalizzazione dei reati. Il numero 7 si intitolava disposizione in materia di abrogazione, quindi proprio abrogazione, cancellare, di reati e introduzioni di illeciti con sanzioni pecuniarie civile. E lo sappiamo, quello che ha fatto più scalpore è proprio l'ingiuria. L'ingiuria è stato un reato abrogato, oggi è abrogato, e non è una questione, non viene devoluta a qualche altra autorità amministrativa che se noi vogliamo avere un risarcimento, dobbiamo fare sostanzialmente un'azione civile. Un atto di citazione, diciamo. Quindi cambia proprio il discorso. Prima era una denuncia querela e quindi provvedeva alle indagini l'autorità giudiziaria penale. Con tutta la problematica relativa all'onere della prova, cioè io devo provare di essere stato ingiuriato. Oggi invece tocca a me, dice, tu mi hai ingiuriato ma io ti faccio causa, ti evoco in causa, il penale non c'entra più. Così come anche altre, non so, per esempio la sottrazione delle cose comuni, il falso in scrittura privata, reati abrogati, ne citiamo due o tre, insomma. L'altra cosa è più interessante perché l'altro decreto legislativo 8 del 2016 invece depenalizzava e quindi trasformava in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali era prevista e deprevista la sola pena della multa o dell'ammenda, quelli del codice penale. Poi anche una serie di reati presenti invece nel codice penale, con esclusione dei reati previsti dalla normativa sulla salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente, territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti. Non riusciamo mai a fare una cosa unica, no? C'è sempre una depenalizzazione su certi reati, poi ci sono le eccezioni. Qual è il discorso che qui va fatto? Va fatto il discorso che questi reati appunto venivano depenalizzati ma dice il decreto legislativo vengono trasmessi, vengono segnalati alla autorità amministrativa competente e qui casca l'asino perché purtroppo l'autorità amministrativa competente non è chiarissimo che cosa si debba intendere. Per la maggior parte dei casi la procura trasmette all'autorità prefettizia ma ci sono anche altri reati che invece vanno per esempio trasmessi all'autorità amministrativa tipo ASL, tipo situazioni quando ci sono per esempio mancati pagamenti per cui la situazione della trasmissione all'autorità amministrativa competente non è di facile soluzione. Io ho provato anche a chiedere a qualche collega Cioè capire chi è competente, quale autorità amministrativa è competente E allora niente, per poter cercare di dare una risposta al legislatore che nel decreto legislativo del 2016 si è dimenticato di dirci qual è l'autorità amministrativa competente alla quale vanno devoluti o segnalati queste figure che non sono più reato credo, perché non ho trovato giurisprudenza in merito, ma credo che l'unica cosa da fare sia riportarsi all'articolo 17 della legge del 1981, la 589 che era stata la prima depenalizzazione in assoluto e che ancora oggi naturalmente è in vigore In questo caso, lei pensi la ricerca che ho dovuto fare? Ho preso un codice, ho aperto l'appendice, ho cercato la legge dell'81 l'ho trovata, articolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, articolo 16 dal 16 in quel codice si passava al 18 L'articolo 17 non c'era È stato abrogato? No, semplicemente è saltato in fase di stampa L'articolo 17 esiste Non solo nel codice Certo, ma in quel codice è saltato Sì, ma lei capisce quanto disordine troviamo non solo anche su internet, ma anche sui codici che già ne compriamo circa 2-3 all'anno Possiede una riduzione del prezzo posto, perché manca un articolo Comunque, per arrivare appunto al discorso dell'articolo fantomatico 17 che esiste e che non è stato abrogato, ma che in quel codice non si trovava sostanzialmente qui c'è una descrizione e lo facciamo velocemente Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal codice della strada per esempio dal testo unico per la tutela sulle strade e dalla legge 20 giugno del 35 sui servizi di trasporto merci Nelle materie di competenza delle regioni e degli altri casi per le funzioni amministrative ad esse delegate il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato rispettivamente al presidente della giunta provinciale o al sindaco L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione Il funzionario o l'agente che ne ha contezza deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi Qui c'è una discreta soluzione al quesito Il problema è se il procedimento penale pendeva viene depenalizzato e la procura magari lo trasmette all'autorità amministrativa sbagliata che cosa succede? A meno che quell'inciso il funzionario si è obbligato a trasmettere Sì, bravo, però bisogna vedere cosa succede E da ultimo, e chiudo con questa domanda Ma noi prima, essendo queste fattispecie previste come reato le potevamo querelare o denunciare all'autorità di polizia giudiziaria in procura, alla polizia, ai carabinieri Adesso, se io debbo segnalare una violazione amministrativa una violazione che prima era reato adesso è diventata punibile con sanzione amministrativa Le forme anche di questa segnalazione E dove vado, mi incarico io di guardare l'articolo 17 forse vado da un professionista il quale anche lui sarà la bella ricerca e se non trova l'articolo 17 sul codice che ha in studio magari pensa che sia abrogato Aiutiamoci, aiutiamoci che il cielo ci aiuta Non è facile Vi ringraziamo per l'ascolto E alla prossima puntata Grazie